questo è un argomento che scotta perché è tra le query di ricerca su google che hanno evidenziato una maggiore impennata in quest'ultimo periodo in pratica questa strategia si basa sull'utilizzo dell'acqua tiepida del succo di limone ed eventualmente del miele per creare una bevanda che a detta di molti dovrebbe avere degli effetti miracolosi sulla salute umana la cosa positiva è che questa roba costa poco e quindi almeno non si viene derubati come spesso e volentieri succede da chi vi sviolina una sinfonia di demenze su integratori o prodotti salutistici vari ed eventuali tornando comunque alla formula in genere viene consigliato un cucchiaio di miele anche se non è strettamente necessario ma servirebbe solo a correggere il gusto della bevanda tre cucchiai di succo di limone e un bicchiere di acqua tiepida si miscela il tutto e si ottiene questa famosa bevanda che generalmente viene consigliata la mattina a digiuno bevendola lentamente a sorsi io ho fatto una ricerca per valutare le varie proprietà che vengono attribuite impropriamente a questa bevanda dai venditori di meraviglie senza basarsi sul benché minimo studio clinico in questa tabella ho riassunto le principali proprietà non scientifiche della bevanda al succo di limone e più cercavo e più mi saltavano fuori delle cose sempre più allucinanti in alcuni casi addirittura viene attribuita a questa bevanda la capacità di curare i tumori comunque in linea generale questa bevanda dovrebbe pulire il colon migliorare la stitichezza favorire la digestione favorire la pulizia del sistema linfatico stimolare l'umore e la vitalità agire come diuretico rendere la pelle lucente e morbida combattere i problemi respiratori per via dell'attività antibiotica ridurre il peso corporeo avere un'azione alcalina poiché a detta di molti addirittura aumenterebbe il ph urinario dopo la sua assunzione avere un'azione sul sistema immunitario per la presenza di vitamina c e migliorare l'idratazione e favorire quindi la funzione delle surrenali prima di parlare delle caratteristiche del succo di limone delle sue proprietà perché alla fine stiamo parlando di succo di limone diluito voglio sottolineare solo una piccola cosa ovvero di quanto il marketing il passaparola compulsivo e i bias cognitivi stiano letteralmente distruggendo il cervello umano e la società in cui viviamo tante persone utilizzano in modo automatico certe cose come per esempio l'acqua e limone ma potrei citare il collagene l'acido ialuronico la curcuma lo zenzero l'aloe e solo perché se ne sente parlare spesso infatti più una cosa diventa di domenio pubblico e più acquisisce fama gloria poteri virtù terapeutiche leggendarie fatte al 99 per cento solo dal passaparola quindi in sostanza non è cambiato niente dalla notte dei tempi mi viene da pensare per esempio ai marinai che arrivavano nei porti e parlavano delle sirene lì per lì magari parlavano di pesci strani ma il passaparola trasformava i pesci strani in mostri poi in sirene poi in divinità e infine questa roba diventava un culto al giorno d'oggi è praticamente lo stesso si prende una cosa il passaparola la carica di proprietà incredibili questa cosa diventa una sorta di sacro graal tante persone iniziano a utilizzarla diventa una forma di culto e non si riesce più a far capire alle persone che forse quello che stanno facendo non è che porti così tanti benefici e bisogna sempre fare attenzione anche al rovescio della medaglia perché qualsiasi cosa può essere buona e al tempo stesso anche fare tanti danni perché bisogna sempre considerare soprattutto le caratteristiche individuali quindi ricordatevi sempre di valutare la vostra situazione prima di iniziare a fare cose in automatico senza scienza o coscienza tornando comunque alla bevanda di acqua succo di limone e miele e parlando dell'attività antiossidante che dovrebbe avere sta roba vi dico subito che la vitamina c è una vitamina termolabile e quindi se utilizzate questi tre cucchiai di succo di limone che già di loro contengono poca vitamina c e li mettete a contatto con acqua tiepida sui 35 gradi il contenuto finale di vitamina c si ridurrà ulteriormente quindi questa bevanda perderà sicuramente la maggior parte della sua attività antiossidante dal punto di vista dei valori nutrizionali 100 grammi di succo di limone contengono 92,1 grammi di acqua 1,4 grammi di zuccheri semplici 0,2 grammi di proteine 0 grammi di grassi circa 30 40 milligrammi di vitamina c e tracce di sali minerali per quanto riguarda invece la parte di composti antiossidanti ritroviamo principalmente flavonoidi tra cui la pigenina l'esperidina la quercetina e acidi fenolici il succo di limone è una bevanda acida con un ph intorno a 2,3 ed un contenuto di polifenoli di circa 80 milligrammi ogni 100 millilitri di succo questo valore risulta inferiore rispetto ad altri tipi di succhi di agrumi come per esempio quello di mandarino che contiene circa 90 milligrammi di polifenoli ogni 100 millilitri di succo oppure quello di arancia che contiene oltre 100 milligrammi di polifenoli sempre ogni 100 millilitri di succo anche il contenuto di vitamina c non è tra i migliori poiché il succo di limone contiene una media di 35 40 milligrammi di vitamina c ogni 100 millilitri di succo rispetto ad altri tipi di succo come per esempio quello di mandarino e di arancia che contengono indicativamente 50 milligrammi di vitamina c ogni 100 millilitri di succo il contenuto di vitamina c tende a diminuire durante i processi di conservazione specie se a temperatura ambiente quindi per preservarne la qualità sia il frutto che il succo di limone dovrebbero essere conservati ad una temperatura compresa tra 0 e 5 gradi centigradi proteggendoli da variazioni di umidità l'attività antiossidante del fitocomplesso presente nel succo di limone è abbastanza limitata se confrontata con quella del succo di mandarino o del succo di arancia queste variazioni sono sicuramente date dalle diverse concentrazioni di vitamina c e di polifenoli ma anche da una presumibile diversa biodisponibilità di queste sostanze all'interno dei vari succhi con questo penso di aver ridimensionato il favoloso potere antiossidante conferito alla bevanda a base di acqua succo di limone e miele naturalmente la parte polifenolica del succo di limone gioca comunque un ruolo importante come attività antinfiammatoria epatoprotettiva e antitumorale così bene o male come qualsiasi tipo di pianta che contenga polifenoli in vitro il succo di limone inibisce la crescita di diverse linee cellulari tumorali come per esempio alcuni tipi di cellule leucemiche e le cellule di adenocarcinoma mammario tuttavia non ci sono studi clinici sull'uomo che dimostrino che il succo di limone sia dotato di attività antitumorale può avere un ruolo protettivo ma naturalmente non è che cura i tumori o almeno fino ad oggi non è stato ancora dimostrato in uno studio clinico in crossover si è scoperto che il succo di limone è capace di abbassare la risposta glicemica e favorire lo svuotamento dello stomaco aumentando la produzione di succhi gastrici quindi il succo di limone è vero che può aiutare o favorire i processi digestivi ma deve essere utilizzato con estrema cautela negli individui che soffrono di reflusso gastriti o hanno ulcere gastro duodenali in uno studio clinico condotto su 90 pazienti affetti da HIV è stato scoperto che il succo di limone è capace di limitare la presenza della candidosi orale dopo un trattamento di 11 giorni in uno studio clinico condotto su 50 individui l'assunzione di 300 millilitri di una soluzione a base di succo di limone e miele quattro volte al giorno in condizioni di digiuno ha permesso di ridurre l'indice della massa corporea la massa grassa i trigliceridi e il colesterolo totale in modo statisticamente significativo un altro studio clinico randomizzato e progettato in parallelo condotto su 112 pazienti iperlipidemici di età compresa tra i 30 e i 60 anni ha valutato l'efficacia di un trattamento combinato a base di succo di limone e aglio in questo caso il gruppo che utilizzava 20 grammi al giorno di aglio e un cucchiaio di succo di limone ha avuto una riduzione statisticamente significativa dei lipidi plasmatici del fibrinogeno e della pressione rispetto al gruppo che utilizzava solo aglio o solo limone nonostante questi risultati interessanti questi studi necessitano di ulteriori conferme con studi clinici randomizzati in cieco e controllati con placebo su un numero molto più grande di individui comunque è presumibile che il succo di limone possa favorire la riduzione dei lipidi plasmatici e migliorare l'indice di massa corporea studi su modello animale hanno dimostrato che il succo di limone può avere degli effetti antiossidanti e neuroprotettivi molto interessanti in particolare si è notato un aumento dei globuli bianchi dei globuli rossi dell'emoglobina e delle proteine totali con una riduzione degli enzimi ast e alt inoltre il succo di limone ha permesso di ridurre gli effetti tossici neuronali del glutammato monosodico naturalmente questi studi sono su modello animale quindi devono essere confermati sull'uomo con ulteriori studi clinici di efficacia il succo di limone alla dose di 85 millilitri al giorno può essere un trattamento efficace in caso di calcoli di calcio in pazienti affetti da ipocitraturia sia ipocitraturia ovvero una bassa concentrazione di acido citrico nelle urine in circa il 40 50 per cento dei pazienti con calcoli di calcio l'acido citrico è importantissimo per limitare la formazione di calcoli di calcio poiché lega il calcio e ne impedisce la cristallizzazione anche un altro studio clinico randomizzato in aperto in cieco condotto su 203 pazienti affetti da nefrolitiasi da ussalato di calcio ha dimostrato che l'assunzione giornaliera di 60 millilitri di succo di limone assunto due volte al giorno previene la formazione di calcoli di ossalato di calcio tuttavia questo tipo di integrazione ha portato ad un aumento dei disturbi gastrointestinali nel corso del tempo e quindi l'aderenza terapeutica a questo tipo di strategia si è ridotta progressivamente nonostante queste evidenze positive del succo di limone sulla formazione di calcoli di calcio uno studio prospettico crossover condotto su 21 pazienti trattati con limonata o citrato di potassio ha dimostrato che la limonata non ha migliorato i livelli di citrato urinario e non ha nemmeno modificato il pH urinario il citrato di potassio ha invece migliorato i livelli di citrato urinario e il pH urinario l'unica cosa positiva della limonata è che ha aumentato leggermente la secrezione di urina in definitiva sebbene ci siano degli studi clinici che dimostrino che il succo di limone a determinati dosaggi possa prevenire la formazione di calcoli di calcio ad oggi mancano studi clinici su larga scala e quindi è un po' una forzatura dire che al 100% il succo di limone possa ridurre la formazione di calcoli di calcio ma anche considerato che questa fosse una verità assoluta sarebbe necessario concentrarsi sullo sviluppo di formulazioni orali con una minor gastrolesività poiché come è stato evidenziato da uno studio clinico i pazienti riducono l'aderenza terapeutica al succo di limone a causa dei disturbi gastrointestinali la famosa azione alcalina del succo di limone sulle urine è ancora un po' una leggenda metropolitana poiché ad oggi non ci sono molti studi clinici che hanno preso in considerazione questa cosa uno studio prospettico in crossover in cieco condotto su 12 individui ha dimostrato per esempio che l'assunzione di 2 litri di limonate al giorno non modifica il pH urinario tuttavia uno studio clinico condotto su un individuo al quale è stato fatto assumere 300 ml di succo di limone tre volte al giorno ha constatato un lieve incremento del pH urinario passando da un 6,7 a un 6,9 in uno studio clinico condotto su modello murino sembra che il succo di limone svolga un lieve effetto diuretico sebbene non ci siano studi clinici sull'uomo o almeno io non ne ho trovati di significativi alcuni ricercatori ritengono che il succo di limone possa essere di aiuto per abbassare la pressione sanguigna comunque ad oggi si è ben lontani dal poter dichiarare come fanno alcuni geni del marketing che il succo di limone sia dotato di attività diuretica poiché mancano gli studi clinici sull'uomo il mio consiglio come sempre è quello di valutare caso per caso e quindi verificare se il succo di limone sotto controllo medico possa apportare nel vostro caso specifico dei benefici sull'ipertensione uno studio clinico in vitro ha dimostrato che l'associazione tra succo di limone e miele svolge un ruolo antibatterico nei confronti di alcuni ceppi di streptococchi che sono dei batteri molto pericolosi che possono causare delle infezioni soprattutto a livello dell'apparato respiratorio naturalmente l'attività antibiotica del succo di limone e del miele è ben lontana da quella degli antibiotici tuttavia una loro associazione potrebbe essere interessante per favorire l'attività dei medicinali e a portare all'organismo altre sostanze nutritive sempre nell'ambito dell'attività biocida è interessante sottolineare che il succo di limone inibisce fortemente la crescita del vibrione del colera e quindi potrebbe rivelarsi un'arma interessante e soprattutto a basso costo per disinfettare alimenti contaminati sono stati fatti anche diversi studi clinici per valutare l'attività biocida sull'acqua contaminata e in effetti il succo di limone agisce come biocida naturale tuttavia la sua efficacia è fortemente ridotta se l'acqua risulta alcalina ecco quindi che non è tutto così semplice e immediato come ci fanno credere i maghi del marketing il succo di limone è dotato di attività di azione antimicrobica però la sua efficacia i suoi dosaggi i suoi effetti collaterali sull'uomo sono ben lontani dall'essere compresi quindi è molto triste sentire che ci sono persone che con un'estrema disinvoltura raccontano che il succo di limone sia capace di prevenire o addirittura di curare le malattie infettive dell'apparato respiratorio così come è emerso in alcuni studi clinici sull'uso del succo di limone anche la bevanda con succo di limone diluito è controindicata in caso di reflusso gastrite ulcere gastroduodenali o in qualsiasi altro caso in cui sia presente un'infiammazione della mucosa gastrointestinale anche gli individui sani devono fare attenzione all'uso del succo di limone poiché può indurre disturbi gastrointestinali soprattutto se assunto a stomaco vuoto e per periodi prolungati vorrei inoltre sottolineare che il succo di limone potrebbe causare delle iterazioni farmacologiche ancora ad oggi poco conosciute questo lo dico soprattutto agli individui per tesi sotto terapia farmacologica infatti alcuni ricercatori sostengono che il succo di limone così come il succo di pompelmo possa modificare le concentrazioni plasmatiche dei farmaci per la pressione spero che questo video vi sia piaciuto se avete delle domande o delle curiosità sul limone sul succo di limone potete farmele nei commenti oppure scrivermi a info chiocciola voxalcorporation.com io come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale per far crescere questo canale mettere qualche like e condividere i contenuti e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti